C'è un effetto collaterale della crisi che rischiano di pagare i cittadini in termini di sicurezza. In giro per le città c'è più gente povera e disperata e il risultato è che, come succede a Pordenone, aumentano i furti in abitazione ma anche nei negozi, furti soprattutto di generi alimentari. Si ruba anche per disperazione e per fame, come rilevano i dati trasmessi dai carabinieri di Pordenone durante il bilancio di fine anno. Nell'aumento generale dei reati, il 5,27% in più nel 2012, pesano infatti soprattutto i furti, saliti del 5% nelle abitazioni e di quasi il 40% nelle auto in sosta. Un tipo di reato che era diventato quasi marginale e che è invece in vigorosa ripresa. Sale anche la fiducia nelle forze dell'ordine. Al 112 di Pordenone sono arrivate 38.000 chiamate, il doppio dell'anno precedente. Come sale il numero di chi si rivolge al 113 della polizia, un anno che ha visto però scendere il numero dei reati più gravi. Il questore di Pordenone, che a sua volta ha incontrato la stampa, ha confermato il dato sull'aumento generale dei furti, degli scippi e dei danneggiamenti delle auto, ma ha rilevato come siano complessivamente calate in città le rapine, tra in tutto l'anno, come le truffe e le frodi informatiche. E tutto sommato, sotto controllo, appare dopo anni in costante salita anche il numero dei reati collegati allo spaccio di droga. È soprattutto il risultato di una grande opera di prevenzione che ha visto carabinieri e polizia impegnati in un costante pattugliamento del territorio, che ha portato i suoi frutti.